Sì, possiamo dire, però ovviamente non abbiamo dimostrato perché siamo primi, perché siamo forti e purtroppo dopo che loro hanno fatto due gol in quattro minuti, comunque tutti i quattro gol hanno avuto una punizione di nostra. Ovviamente questo è una cosa, piccoli dettagli, che dobbiamo migliorarci, dobbiamo guardare a che cosa abbiamo sbagliato e così la prossima volta già non facciamo. E poi dopo i due gol che loro hanno fatto eravamo un po' bloccati, lenti. Purtroppo dopo il primo tempo e il secondo tempo non abbiamo avuto grandi occasioni per magari fare un gol e dopo magari fare un altro. Otto partite alla fine, il Pisa non è più primo, è secondo, ma c'è un gran gruppo di squadre là davanti. Ogni partita sarà difficilissima come quella di stasera. Sì, esatto, siamo là, siamo tutti vicini, adesso testa giù, dobbiamo lavorare, migliorare in qualche maniera e poi tra quattro giorni si gioca un'altra partita, che sarà una partita importante contro Cittadella, che tutti ricordiamoci come è andata la prima partita, quindi dobbiamo dimostrare, dobbiamo prendere i tre punti con una grande dimostrazione.